Siamo a Ordona, uno dei paesi dei cinque reali siti. In questo paesino c'è un problema. Gli abitanti da oltre un mese non ricevono la posta. Vediamo perché. Manca il personale dell'unico ufficio postale e migliaia di cittadini di Ordona, da qualche giorno prima di Natale, vivono un notevole stato di disagio. Il problema è che non consegnano più la posta. Io sono abbrato a un quotidiano e dal 20 dicembre non me lo consegnano più. Ma oltre a quello, visto pure le boleste da pagare, a me arrivavano prima in ritardo. La mura la pagavo io di più che quello che c'è da pagare. Il sindaco Formoso ha anche scritto al prefetto di Foggia e si attende che qualcosa si muova al più presto. C'è anche chi lancia una proposta e una provocazione. È da un mese che non consegnano più la posta e quel poco che ci arriva è lasciato alla buona volontà della postina che viene da Margherita e spesso viene anche di sabato, fuori orario, per portare quello che riesce a darci. La proposta sta nel dare una mano, se è possibile, almeno nella distribuzione, insieme alla postina. Cioè metterò a disposizione un gruppo di ragazzi che consegneranno, sempre sotto l'occhio vigile di un referente delle poste, la posta. Se non abbiamo nessuna risposta a 20 giorni sarà molto provocatorio. Chiederò ai cittadini di Ordona di chiudere tutti i conti presenti nell'ufficio postale di Ordona per provocare un danno alle poste.